Nell'edicola degli artisti del tempo, oggi abbiamo il piacere di ospitare Alan Sorrenti, un personaggio iconico della musica italiana e non solo italiana. Come vedi Alan, era un'edicola vera e propria, una vera edicola dove si vendevano i quotidiani, che adesso è un po' come una macchina del tempo, non a caso, ci porta nel presente e nel futuro della comunicazione, dei social, del giornalismo, anche visuale. Tu sei sempre stato un grande sperimentatore, sia nei testi, sia nelle musiche, negli arrangiamenti, non ti sei mai accontentato di quello che andava in quel momento, di quelle che erano le tendenze. Oggi ci parli di nuova musica, ancora, con il tuo nuovo singolo che si intitola Cosmica, che viene dopo l'album di un paio d'anni fa, credo che si intitolava Oltre la zona sicura. Esatto, sì. Vorrei che tu ci parlassi un po' del tuo percorso e di Cosmica, soprattutto. Sì, com'è nata questo pezzo. Allora, due anni fa io ho fatto il Miami Fest a Milano. Era il primo concerto dopo un periodo di silenzio, di pausa. Era anche perché promuovevo, uscivo, il nuovo album, appunto, come hai ricordato. E c'era da parte di Carlo Pastore, l'organizzatore, il desiderio di darmi un riconoscimento, no? Legato a Figli delle Stelle, legato sia al mio percorso, ma a Figli delle Stelle, soprattutto che oggi coinvolgeva le nuove generazioni in modo evidente, straordinario, anche per me, con grande sorpresa, ma una felice sorpresa. E allora in quell'occasione il gruppo che avevo formato, la mia band, si chiamava, l'abbiamo chiamata Cosmica. E quindi il bassista Bruno Bellissimo, che è anche produttore, ha pensato di cogliere questo momento di immortalarlo in una canzone e mi ha fatto sentire un'idea che aveva scritto, con questa frase che cantava lui. Sono qui in un club e sta suonando una band. Sono proprio qui e sta suonando una band. Questa frase l'abbiamo naturalmente ripresa nel pezzo, al che io ho cominciato a pensare a una melodia e a un testo. E così è nato man mano questo brano, questo pezzo, che vuole fare volare alla fine. È un pezzo che ha una bella ritmica, è molto dance, però non la definirei, magari si inserisce in quest'onda anomala dell'italodisco, però dove si possono fare delle grandi variazioni e questa lo è. E quindi è nato questo pezzo, abbastanza singolare, perché abbiamo anche fatto suonare praticamente tutti i membri di questa band, sia quella di allora sia quella di ora. Di Cosmica praticamente. E di Cosmica, quindi è stato un esperimento particolare. Stavo pensando, in qualche modo, anche nei titoli e nelle tematiche, c'è un po' un fil rouge tra Cosmica e Figli delle Stelle. Tu stesso mi parlavi che ti sorprendi quando riesci a toccare con mano proprio il grande amore, la grande passione che c'è per quel brano, il fatto che resta sempre attuale in qualche modo. Allora volevo chiederti proprio questo. Secondo te, perché quel brano è così attuale? Ma Carlo, guarda, questo ha fatto riflettere anche a me, perché attualmente, alla luce anche dei concerti che ho fatto, tra l'altro l'anno scorso ho bottato un record della mia carriera, non fatti tantissimi, ma i fatti così, io incontravo nei festival tantissimi giovani che si identificavano in questo pezzo. Non era solo, ah, il pezzo, vabbè, ci piace, lo cantiamo. È proprio un'identificazione con Figli delle Stelle. Questo, devo dire, ancora di più di quanto è successo quando uscì. Quando uscì era legato a un fatto di costume anche. Era il pezzo esploso a Milano, Milano della moda, usciva con la moda, io stesso vestivo dei designer della moda. Era il 78, diciamo. Era una Milano felice, giovane e fresca. Un fatto di costume, perché al Divina, dove feci uno showcase, c'era Grace Jones, e c'era la presenza di molti gay, il che significava anche un intervento di una nuova forza ancora, che ancora prima di allora era un po' nascosta, diciamo. E quindi io penso che quello era soprattutto un fatto di costume. C'era anche il discorso delle stelle, ci usciva Star Wars, io stesso un po' ho colto questa cosa a Los Angeles andando a vedere la prima di Star Wars, prima ancora che scrivessi il pezzo, e sentivo che c'era questa influenza delle stelle. Anche Bowie usciva contemporaneamente con Eros, tra l'altro. E quindi era molto forte questa cosa di costume. Oggi io sento che i giovani si sentono proprio così. Si sentono che hanno voglia di sognare, di vivere ancora con una certa libertà, la ricerca della libertà di vivere, della gioia di vivere. La intemperano così questa, figli delle stelle, quindi... È diventato un po' un manifesto. Sì, di una generazione rivolta al futuro. Alan, oltre a Cosmica, stai preparando anche una nuova tournée live, che debutta proprio in questi giorni a Roma. Allora volevo chiederti, insomma, di parlarci un po' di cosa stai preparando per il pubblico e se ci saranno sorprese. Sì, innanzitutto la sorpresa molto piacevole è che il tour inizia da Roma, che io dopo anni canto nella città dove tutto sommato vivo da anni e che in qualche modo mi appartiene. Quindi questo sono molto felice. Il concerto, che possiamo dirlo il 19 aprile, possiamo dire tutto all'Alcazar, vecchio cinema, ma mi dicono che è una bella dimensione, un bel ambiente. Allora abbiamo cercato di, in un'ora e un quarto, anche qualcosina in più, di condensare un po' tutto un percorso, focalizzando maggiore sull'aspetto ritmico, naturalmente, perché è quello che abbiamo visto che esalta molto. Io ho fatto molta, mi accorgo di aver scritto molte cose ritmiche, materiale ritmiche a sufficienza. Quindi attraversiamo tutto questo percorso molto funky, ci sarà anche un momento in cui riassumo tre o quattro brani in un momento solo, i brani, soprattutto dall'album L.A. New York, dove c'era anche la facciata New York, che era molto disco New York, insomma, in quel momento molto forte. Quindi ci saranno questi momenti qui, un'orchestrazione di luci interessante, per arrivare poi a un momento, invece, dove creo una mini suite, in effetti, di alcuni momenti prog, però rivisitati secondo un'onda più arabeggiante. Vengo da un viaggio nel deserto di Abu Dhabi che mi ha influenzato molto e lì ho trovato lo spazio che in fondo appartiene un po' alla mia musica, come accennavi anche te. Quindi in qualche modo mi facevi pensare a quelle onde prog, torni un po' anche alle origini. Ma è necessario che ci sia anche quello, perché fa parte proprio della mia vita. Prima mi dicevi, parlavi del mio spirito così, da ricercatore, sperimentatore, eccetera, che non mi sono mai accontentato di quello che avevo fatto. Ed è vero, ma questo deriva, secondo me, fondamentalmente dalle mie origini, le origini prog, erano quelle in cui creavi continuamente. Libertà totale. E dove anche sì, ho sperimentato questo fatto di viaggiare nel cosmo. Quindi questa cosa è molto presente dentro di me. E quindi è necessario quel momento, anche perché è doveroso a chi vuole sentire dei momenti del genere. E quindi sarà un momento condensato, ma molto forte, anche per questa particolarità che comunque è rivisitato. Ancora una volta, come dicevi, non riuscivo a farla uguale questa cosa. Dovevo dargli con l'influenza... Aggiornarla. Aggiornarla, assolutamente, sì. Come nelle vite di tutti, Alara. Ci sarà un ospite, ma che lo possiamo dire, e la lasciamo una bella sorpresa. Quindi l'ospite sarà la sorpresa del tuo live. Si, si ricollega a questo passato, alla fine. Dicevo, come nelle vite di tutti, ci sono sempre degli alti, dei bassi, dei momenti difficili da superare, da attraversare. Nel tuo passato c'è stata anche l'esperienza del carcere. Beh, c'è stato un momento, sì, un mese particolare. Che cosa ti ha lasciato quell'esperienza così forte? Ma questa esperienza poi si riallaccia poi a un'altra esperienza estremamente importante che poi ho fatto qualche anno dopo che mi ha fatto capire anche perché era successo questo fatto di questo momento di caduta. Tra l'altro, vabbè, inutile riaffermare il fatto che era qualcosa di, direi, immaginario. Cioè era la mia ex che mi aveva costruito, una cosa che non stava in piedi assolutamente. Ma era un periodo, anche quello, storicamente in cui si dava molto addosso a queste cose, all'uso di droghe, al... sì, al... c'era un'attenzione, soprattutto da parte del pubblico ministero, a queste cose. E quindi, beh, ricordiamo i casi Tortora o cose del genere, un po' incredibili, no? È stato uno scossone perché all'inizio, perché ti ritrovi, capito, due settimane in isolamento e prima ero in un'altra... in un'altra dimensione totalmente. Però da questa scossone io ho cominciato a riflettere perché è successo. È successo perché io alla fine, al di là di quello che può essere l'invenzione di una mia ex, è successo perché io comunque accentravo tutta la mia vita su di me. Tutto girava intorno a me e per me. Quindi una visione molto egocentrica della vita che sì, va bene per un artista, sappiamo che l'artista è molto concentrato su se stesso. Però questo mi ha fatto riflettere e in qualche modo ho capito che quando gira intorno a te a un certo punto si assaurisce questa cosa. Hai bisogno degli altri, hai bisogno di costruire insieme agli altri. Da questa riflessione poi, dopo qualche anno, mi sono accostato al buddismo e qui è iniziata una fase nuova, totalmente nuova, proprio di essere umano al di là dell'artista. Anzi, per un po' ho dedicato molto alla mia umanità, ritrovarla. Perché poi alla fine tutto questo successo, glamour, questo mondo, poi mi lasciava sempre leggermente insoddisfatto. Come dire, tutto questo non mi sento felice, mi manca qualcosa. Era questo che mi mancava, quest'anima che dovevo coltivare. Avevo iniziato così e poi man mano forse me la sono persa. Di trovare quella parte mancante. È stato incredibile, io colgo l'occasione per menzionarlo, il buddismo che incontro, perché devo farlo, perché ci sono vari tipi di buddismo. Questo è il buddismo di Nichiren Daishonin a origine che viene coltivato, trasmesso e diffuso da un'organizzazione internazionale di origine giapponese che si chiama Sogagakai. Alan, in passato in altre chiacchierate che abbiamo fatto, mi hai parlato dell'idea che avevi che ti frullava, insomma, nella testa di un progetto di un docufilm sulla tua vita. Me l'avevi appena accennato, però mi aveva incuriosito, quindi volevo capire se il progetto sta andando avanti. Sì, anche se ho qualche dubbio sul docufilm. Cioè, io ho fatto un trattamento che è diventato anche un copione per un libro che ora mi accingerò a scrivere. Autobiografico. Sì, in una maniera abbastanza insolita, però anche un po' fantastica, cioè la memoria può fare anche brutti scherzi, cioè nel senso non brutti, in questo caso belli, nel senso che lavora in maniera non lineare e la mia autobiografia non sarà lineare, sarà un insieme di contenuti che si sono, che si influenzano a vicenda, ma la cosa importante è che ho cominciato a pensare che magari poteva essere qualcosa di più l'un docufilm. Ne ho parlato con uno del, sì, del mio management che comunque si interessa ora di film, di video, eccetera, che appunto farà alcune riprese all'Alcazar in funzione anche di questo progetto che potrebbe essere un film. Insomma, sto cominciando a pensare che la mia vita può essere la vita di molti e quindi estrapolarla dal aspetto io, io, io autobiografico. Questa cosa mi interessa molto. D'altronde siamo tutti figli delle stelle. Ecco, Io sono, Carlo, alla fine, penso, come molti noi, io sono un testimonial di generazioni che vanno dall'inizio degli anni 70, insomma, quindi ho vissuto tutta una serie di generazioni e ci sono molti che hanno vissuto questa generazione con me e ci sono i giovani di cui parlavamo prima che riprendono e continuano. Mi piacerebbe uscire fuori da me io come punto di riferimento ma uscire fuori da me e parlare di questa generazione. Lasciaci con un regalo intonaci solo qualche secondo di figli delle stelle. Il tempo nell'edicola del tempo nella macchina del tempo nella macchina è bella anche l'edicola è la macchina del tempo. Noi siamo figli delle stelle figli della notte che ci gira intorno noi siamo figli delle stelle non ci fermeremo mai per niente al mondo Alan Sorrenti Grazie a voi grazie al tempo ciao